Montepaone 2 filo gaso 0 abbiamo mister Massimiliano Cambrea come per l'Empoli di Andrea Azzoli tanti complimenti per la partita giocata bene però alla fine si esce senza punti da un campo del Montepaone dove per oggi era difficile fare punti diciamo non è che era difficile fare punti era difficile giocare oggi su questo campo secondo me non si possono giocare partita di calcio in un terreno di gioco in queste condizioni perché dove la palla non fa neanche un metro la palla si ferma falle dopo all'inizio prendiamo il gol su unica palla golla che hanno avuto su un calcio d'angolo tra l'altro e poi abbiamo sbagliato diverse occasioni da golle non abbiamo pareggiato la partita dopo il secondo tempo poi la pioggia è continuata a piovere non credo che era un terreno dove si poteva giocare comunque un film eppure siamo rimasti in dieci non so che cosa ha visto l'albero sull'espulsione anche noi dalla tribuna non abbiamo non abbiamo capito quale sia stato il fallo perché in un terreno così si cerca di entrare sulla palla e prendere la palla e poi non si può inventare una un'espulsione non doveva neanche fare giocare la partita in queste condizioni secondo me perché non si è visto calcio ma assolutamente una squadra come la nostra non voglio dire loro perché pure loro avranno pure i loro giocatori tecnici però noi avanti l'abbiamo anche dimostrato su questo terreno abbiamo giocato completamente nell'area avversaria tutta la partita è normale non si può giocare in un terreno di gioco dove la palla non fa neanche un metro una un'annotazione per un giocatore in particolare ci è piaciuto molto ball abbiamo definito il quadrato del filo gaso sì ma la squadra non è solo ba ba è uno dei nostri uomini migliori insieme ad altri oggi avevamo due pure due assenze pesante come Tripodi e Macri che per noi sono due due uomini importantissimi e ciononostante non penso che oggi meritavamo di perdere questa partita dove non si è visto dove non abbiamo neanche potuto mettere in campo le nostre le nostre forze che sono sono sulla sulla qualità che noi abbiamo specialmente nel del centrocampio in avanti ed eccoci ora con mister pisano una vittoria importante l'abbiamo detto anche in telecronica ci permettiamo di dire una vittoria che ci riconcilia col calcio perché tutte e due le squadre hanno giocato con grande fair play sì ma noi giochiamo sempre con grande fair play noi sì e speriamo e cerchiamo di raggiungere gli obiettivi in questo modo il filo gaso ha fatto lo stesso su un campo al limite della praticabilità e quindi era anche difficile poter vedere delle situazioni di gioco piacevoli però diciamo che le due squadre hanno dato il massimo e sono molto soddisfatto della della cattiveria calcistica e della voglia di vincere che ho visto oggi perché direi che in questa settimana come sempre questo gruppo è talmente forte che ogni volta che succede qualcosa ne usciamo sempre più forti e soprattutto senza pareggiare quattro vittorie 12 punti si siamo una posizione di classifica che può far sorridere siamo in una posizione di classifica che oltre quello che noi avevamo programmato nel senso che noi dovevamo stare lì a lottare con con le squadre che erano appena salite con le squadre che dovevano lottare per la salvezza volevamo fare un campionato tranquillo in questo momento siamo in una buona posizione ma la dobbiamo ovviamente difendere ogni domenica non eravamo scarsi prima quando abbiamo perso tre parti di fila e non siamo dei fenomeni adesso che ne abbiamo vinte due noi siamo una squadra che deve lavorare ogni giorno come abbiamo sempre fatto poi se dall'altra parte troviamo delle squadre che fanno altrettanto ci divertiamo tutti nel senso che ci confrontiamo con sono veramente contento di quello che ho visto finora nel girone perché abbiamo incontrato le squadre che hanno sempre preferito giocare a calcio che parlare o fare altre situazioni e allora noi ringraziamo mister Pisano un allenatore col quale è veramente un piacere poter parlare di calcio ogni domenica in bocca al lupo crepi il lupo grazie